Nome? Giovanni. Cognome? Braga. Età? 24. Città natale? Milano. Lavoro? Barista. Classico freestyle? Freestyle. Perché? Nome del locale? Italiano. Cosa ti piace del tuo lavoro? La miscelazione e il contatto con il pubblico. Hobby? Hobby sport. Il nome del tuo cocktail absolute? Il romanzo criminale. Perché dovresti vincere tu? Non lo so, spero che non lo faccio come del principiante. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Ciao a tutti, votatevi. Vai, un saluto. Ciao ragazzi.